Ciao a tutti, si può sedurre tramite messaggi? Molte persone mi chiedono questo, perché oggi le relazioni sono diventate maggiormente virtuali. Anzi, alcune relazioni si snodano semplicemente attraverso il canale virtuale, attraverso il canale del messaggio. Il messaggio ovviamente via WhatsApp. WhatsApp è ormai diventato il principe, diciamo così, delle app per mandare messaggi. Gli SMS normali sono praticamente in via d'estinzione, anche perché WhatsApp ti consente comunque di mandare messaggi vocali, di caricare file, video, eccetera. Tutto un sacco di cose che sono molto importanti e quindi la seduzione passa attraverso questo tipo di comunicazione virtuale. Molte persone, diciamo, utilizzano quasi esclusivamente questo canale di comunicazione per interagire con altre persone. Ci sono persone che si fidanzano via WhatsApp, si lasciano via WhatsApp e uno dice non ci sarebbe neanche niente di male in tutto questo. No, ma la cosa assurda, dal mio punto di vista, è che si relazionano anche prevalentemente via WhatsApp. E quindi però nella seduzione è diventato uno strumento importante. Ora, vi dico subito che è possibile coinvolgere seduzioni via WhatsApp, ma non tanto per il contenuto delle cose che mandate. Intanto le cose che mandate sono più o meno le stesse, non c'è molta differenza. I messaggini, diciamo, si equivalgono tutti. Ma bisogna fare un'attenta gestione del tipo di comunicazione. che cosa vogliamo mandare, in che modo vogliamo mandarlo, con quali tempi, quando visualizziamo, quando non visualizziamo. Ecco, lo strumento migliore per appunto generare tensione è la gestione dei tempi di risposta dei messaggi e di visualizzazione dei messaggi. E degli stati di WhatsApp, perché gli stati di WhatsApp ci consentono anche di far passare indirettamente dei messaggi. Ecco, quindi che bisogna attuare la tattica push-pull, quindi l'interruzione di schema, essere imprevedibili, un po' do e un po' tolgo. Non essere mai... perché se io continuo sempre... Tu mi mandi messaggi e non te li leggo, te li leggo poi dopo tanto tempo, non fa più effetto questo. Invece devo, diciamo, creare una sorta di plafon in cui più o meno leggo i messaggi dopo mezz'ora, faccio un esempio. E poi qualche volta faccio delle punte, pac! Delle punte in cui un messaggio lo leggo molto dopo, oppure lo leggo e non rispondo. Ecco questo, ecco, la gestione di tutto questo permette il coinvolgimento. Quindi chi sa generare più desiderio, chi sa generare più tensione emotiva attraverso questi strumenti, diciamo così, riesce a sedurre, riesce a coinvolgere, riesce a prepararsi bene il terreno. E poi quando ci saranno gli incontri reali, avrà già fatto una buona parte del lavoro. Gli resterà da fare soltanto il minimo. Quindi impara a gestire i tempi e i modi se vuoi sedurre via messaggi. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo che se vuoi imparare a eliminare la paura dell'abbandono per conquistare chi vuoi, vieni domani al mio seminario a Torino, in corso 3013, presso l'Educatorio della Providenza, il riferimento è il 333 1511 703. Ti ricordo altresì di iscriverti al canale, fare iscriverti ai tuoi amici, fare iscrivere ai tuoi amici e condividere questo video se ti è piaciuto con i tuoi amici. Ciao!